...sovietica che realizza questo gol facilissimo proprio da realizzare anche Nils e ovviamente di questo parere mentre siamo già passati a Aik Vitkovice e qui vince il Vitkovice per 2 a 0 elimina la formazione svedese, calcio svedese non in grandissima condizione in questo periodo mi sembra Nils abbiamo visto il primo gol realizzato da Dostel e il secondo realizzato da Uska per il 2 a 0 che qualifica il Vitkovice dopo l'1 a 1 dell'interno